Faccio parkour! Cosa? Dove sono? No, perché? Ah, che bello costruire! Ok, ultimo blocco... Eh, ma cos'è successo? No, 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 no! Casa mia! È esplosa! Ti prego, non cadere! No, perché? Oh, ma sono salvo! Oh, perché? 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 No! Che bella giornata! Cosa potrebbe andare storto ora? Ma che è successo? Oh, ma... no! No, 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 per favore! Cos'è quella strana struttura in vetro? Fammi vedere... Perché è piena di pressure plate? Perché? 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 Ho trovato qualcosa, ma che cos'è quella cosa? Ok, qua si scende giù... Ma cos'è questa strana struttura? Non premere! Ma ti pare che non premo, ma... Per favore! Ah, ora mi faccio una bella passeggiata nei boschi! Che cosa può andare storto? Insomma, sto camminando così tranquillamente! Niente può andare storto, veramente niente! Ma c'è una mucca là! Vengo a prenderti, mucca! Cosa? No, perché? Ma chi è stato a scavare questo tunnel? Ah, che bello! In fondo al mar! Guarda che bei pesciolini che ci sono! È così bello qua! Ma perché? No, 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 no! Perché è pieno, è pieno, è pieno! Ma cos'è che ho trovato? Cos'è questa cosa stranissima? Sembra una struttura del nether! Ma che schifo è il nether! Basta, non lo voglio! Boo! Ma cosa? Perché? Perché ci sono quattro wither? No! Basta, non gioco più!